TRIPLE UCCISIONE Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video di Call of Duty Advanced Warfare Come avrete appena visto qua sul mio canale ho appena finito di registrare il mio primissimo gameplay su questo gioco E se vedete sulla destra sono già a livello 8 In una partita ho fatto 8 livelli Ho sbloccato tantissime cose, caschi, armi, equipaggiamento Ho fatto veramente il delirio E oggi voglio portarvi in una playlist bonus su Infetto Andremo un po' a divertirci su questa modalità Andremo a vedere un po' com'è questa modalità su Advanced Warfare Però prima scrivetemi nei commenti se volete che faccio un altro Road to Master Division Per così dire perché qua ci sono le partite classificate con regole e modalità eSport Quindi è veramente una figata Qua dentro penso e spero ci siano veramente i giocatori più forti Perché qua ad esempio è come la Lega in Black Ops 2 Che c'era la divisione bronzo, ferro, argento E man mano che diventi sempre più forte in pratica scali le classifiche E' veramente uno spettacolo Scrivetemi nei commenti se volete che faccio appunto una serie di video su queste partite classificate Però oggi andremo a fare Infetto Quindi vediamo un po' i nostri avversari e quale mappa ci capita Spero di non iniziare in una modalità già iniziata In una mappa già iniziata possiamo dire Questo qui ha già il microfono Però lo disattiviamo mio caro perché non voglio sentire casini Lamentele, urla, strepiti mentre gioco Di nuovo questa mappa, Retreat Non male Cioè non male Male da una parte perché volevo farvi vedere mappe nuove Però bene dall'altra perché Conosciamo tra virgolette già Questa mappa Quindi siamo un po' in vantaggio Per così dire ragazzi Non partiamo già svantaggiati Da proprio non conoscere completamente Tutto quanto Porca vacca ragazzi Cosa c'è quel simbolo sull'arma Ma sono matti Oh youtube eccomi qua ragazzi Quello lì è matto a utilizzare Contro alla rovescia sull'infezione A utilizzare quel simbolo lì è veramente matto ragazzi Vai l'infetto è lì Dove cavolo possiamo nasconderci Dietro qua Dietro qui Ci nascondiamo Cavolo 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 C'ho subito là l'infetto io Eccolo 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 Nascondiamoci dietro gli sdrai Via 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 Tempo aumentato No non c'è Non c'è l'esoscheletro Ah c'è l'esoscheletro Nascondiamoci qui No qua mi vedono troppo Qua mi vedono e ci ammazzano Dove cavolo possiamo nasconderci ragazzi Dentro qui all'albero ci si può stare Fantastico Fantastico No qua mi vedono Però così Nooo mi ha visto Cercavo di fare la pianta E invece ci hanno massacrato Vai qua dietro ce n'è uno Cos'è sta roba Che cavolo è ragazzi Una cosa era GX Cosa cavolo è Alla tenda della piscina Per prendere Infiltrazione Si buonanotte In pratica è una macchina L'infiltrazione tattica Che cavolo hanno fatto Nooo cos'è sta esplosione qui Vai ragazzi Basta con le cavolate No cavolo Era R1 che dovevo sparare Ah in pratica Questa è l'infiltrazione tattica Nessuno la userà Perché fa alquanto schifo Uhu Cento punti Vai tripla Tripla uccisione E andiamo Beastard conquista tutti Anche su dominio Epidemia Attenzione Il massacro Più totale Sto facendo qua Qua andiamo da questa 3 2 1 Via No 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 Non sapevo che lì c'era una grotta Che figata Andiamo subito là dietro No cavolo Stavo scivolando io Ma che cavolo Sto spaccando in due Il pad ragazzi Per fortuna che non mi vedete Con la webcam Che sennò veramente Spaccherei tutto Oh è preso 5 medaglie vendetta Ottini 5 medaglie vendetta Contagio Cioè Beastard ragazzi Qui è un pro player Anche su infetto Che figata Promozione grado 9 Vediamo dov'è l'ultimo Finita Vittoria E io direi di fare Subito un'altra partita Perché è durata Veramente poco E mi sono Stradivertito Ed eccoci qui Questa qui è la nuova mappa Recovery Su infetto Non ci ho mai giocato Scendo in battaglia Eccoci qui Conta la rovescia Vai Vieni qua Che tu sei subito Infetto Che ti ammazzo Vai Tanto so Che sei tu l'infetto Vieni qua Vieni qua Infetto Dai vieni qua 3 2 1 Lo sapevo Lo sapevo Ragazzi Dovete sempre No Da dietro Ma quanti cavolo Di infetti ci sono Scusate un attimo Ma questo cos'è Infetto Ma perché siamo solamente In due Ah ma che Non ho capito più nulla Ragazzi Però il primo infetto Lo avevo scoperto Già all'inizio Preso Contagio Il terrore del cielo Vai Andiamo subito qua Infetto ragazzi È una modalità Veramente Stradivertente Se si gioca poi Con gli amici No L'hai lisciato No Che cavolo è esploso Mi ha ucciso lui Ma non come cavolo Va bene Vai Vai Tempo aumentato Andiamo di qua Vai Guardate infetti Qua dietro ci deve essere qualcuno Qua dietro ci deve essere qualcuno Me lo sento Qui stanno Qui stanno tutti usando L'esoscheletro Dove sono No Preso Preso Con l'epidemia Sono tutti Ma dov'è Ah invisibile Invisibile Quel barbone lì Andiamo a prenderli Andiamo a prenderli Sono tutti là dentro Però se escono da dietro Io li blocco da qua dietro Tempo aumentato Cucu No Non faccia Cos'è sto coso E' già finito E' già finita anche questa partita Allora ne facciamo un'altra ragazzi Ed eccoci qui con La mappa Sulla mappa In pratica Comeback Comeback Vai Vai Eccoci qui Fai di tutto per sopravvivere Adesso io me ne sto qua dietro No Non venite qua Tanto so che te Sei infetto Vieni qua So che voi siete infetti 3 2 1 E vi massacro Dov'è l'infetto Laggiù Occhio Occhio laggiù Occhio laggiù raga Via di qua Via Fatemi salire Non posso salire qua Ma che cavolo Via 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 Dov'è l'infetto Via 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 Io adesso mi nascondo qua in mezzo Trovatemi Trovatemi Ma no ma cavolo Tutti qua sono Sta gente non si fa mai gli affari loro Levatevi Che io Divento una pianta Eccomi qua Diventato una pianta Ragazzi So che potrà essere Abbastanza noioso Però magari Attenzione Attenzione Sentite gli spari Attenzione Tutti infetti Si stanno precipitando Tutti qua giù Vai modalità camper E pianta E pianta Io magari ragazzi Vi lascio E taglio Non lo so ragazzi Come farò Perché qua Diventa un po' noioso Il gameplay Però voglio Assolutamente Vincere Attenzione L'avete visto Lì davanti Eccola l'infetto Attenzione Sopravvissuto Bloccato a terra Eccolo qui Un altro infetto Eccoli qua Due infetti Attenzione Ho trovato il posto migliore Per camperare Ragazzi Sulla mappa Comeback Strepitoso Vai che muoiono tutti E qua in teoria Eh però mi vedono Dalla minimappa Se qualcuno muore Viene subito diretto qua Dai vediamo un po' Quanto tempo Riesco a durare Da questa parte qui Sopravvissuto ancora Promozione Grado 10 Ragazzi Senza fare nulla Questo giocone qui È veramente bello Soprattutto per Per le musiche Che ci sono Per le esplosioni Il rumore delle armi Attenzione Un infetto Attenzione Sento l'esoscheletro L'esoscheletro Che si muove Colpi Eccolo lì Eccolo lì davanti Eccolo lì davanti Ragazzi Eccoli lì Eccoli lì Eccoli lì Adesso mi uccide Adesso mi uccide Non fare nulla Non fare nulla Beastard Non fare nulla Non fare Assolutamente nulla Non muovete un muscolo Non respirate Ragazzi State tutti fermi O c'è uno Che ci sta trollando Io sono stato Fermo Immobile E il bello Che non ho neanche Il perk In teoria Se uno mi vede Dovrebbe visualizzare Il nome rosso Perché non ho Sbloccato Quel perk Eccolo lì O forse loro Non mi vedono Con il nome rosso Ma Ne dubito Non saprei Non saprei ragazzi Eccone un altro Eccone un altro E nessuno ci vede Eccone lì un altro Ragazzi Parlate lentamente Non muovetevi Un uomo Uomo mega Ragazzi Ultimo superstite Ultimi Un minuto E 50 secondi Alla fine 52 51 Sopravvissuto L'ultimo Ragazzi L'ultimo Eccolo No 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 Cavolo Che cavolo Era una vittoria Quella spettacolare Fatemi vedere Ah si Vedete Mi ha visto Niente da fare Purtroppo Modalità camper Su infetto Qui non è andata A buon fine E comunque Questo qui ragazzi È stato il video per oggi Spero che vi sia piaciuto Commentate in tantissimi Lasciate tantissimi like Condividete il video Iscrivetevi al canale Alla pagina facebook Qua da Bistard Per oggi è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao